Ben ritrovati a questa nuova serie del periodico televisivo Le Marche Informate, appuntamento realizzato dalle sette associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Marche in materia di tutela dei consumatori e finanziate dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Apriamo questa seconda puntata con la notizia della proroga del termine di validità delle polizze RC auto e moto. A seguito dell'attuale situazione emergenziale causata dal Covid-19 al fine di garantire le coperture assicurative, il decreto Cura Italia proroga di ulteriori 15 giorni la validità delle polizze RC auto e moto con scadenza fino al 31 luglio 2020. In questa maniera sarà possibile circolare con l'assicurazione scaduta per 30 giorni anziché i canonici 15. In questo periodo di tempo l'assicurazione è tenuta a mantenere la validità della garanzia offerta attraverso la polizia assicurativa. Tuttavia è bene ricordare che il provvedimento disposto dal decreto ha validità solo per le RC auto e moto, dunque per la responsabilità civile, cioè l'assicurazione obbligatoria per la circolazione di un veicolo. Per quanto riguarda le coperture aggiuntive, per esempio furto incendio, se non verranno saldate secondo i termini stabiliti dalla scadenza contrattuale perderanno la loro efficacia. Per coloro che invece volessero sospendere per intero la polizia assicurativa è bene sapere che al momento non esistono provvedimenti emergenziali che disciplinano questo caso, quindi è necessario verificare se nelle clausole del contratto assicurativo sia prevista la sospensione della polizia. La richiesta va inoltrata alla propria compagnia assicurativa che valuta la presenza delle condizioni per richiedere la sospensione. E per rimanere in tema ricordiamo che il pagamento del bollo è stato prorogato al 31 luglio 2020. La Regione Marche rientra fra le 12 regioni che hanno deciso di prorogare il termine di questa tassa regionale. Il provvedimento rientra all'interno di un quadro più ampio. Il Consiglio regionale ha infatti approvato la proposta di legge della Giunta regionale per la sospensione di tutti i termini relativi ai tributi regionali in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Il rinvio al 31 luglio prevede l'esclusione di qualsiasi maggiorazione o sanzione. E un'altra proroga è stata decisa dalla Regione riguarda la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. L'ordinanza regionale numero 25 stabilisce la proroga di 90 giorni dei termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 30 giugno 2020. Quindi chi avrebbe dovuto effettuare il controllo in questo periodo ha 90 giorni in più di tempo senza incorrere in sanzioni. La stessa ordinanza ha stabilito peraltro anche la sospensione fino al 31 luglio dell'attività di ispezione degli impianti termici, ad eccezione però di quelle situazioni di particolare pericolosità emerse dall'accertamento documentale dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica. Ora passiamo ad un altro tema di particolare interesse, visto che proprio da questa settimana si sono aperti anche i negozi di abbigliamento. Quest'anno i saldi stivi inizieranno il 1 agosto, contrariamente a quanto precedentemente stabilito, che fissava nella data del 4 luglio l'inizio degli sconti di fine stagione. A deciderlo la conferenza delle regioni e delle province autonome durante la riunione del 7 maggio. E ora apriamo la nostra rubrica del Telesportello. Con il nostro Telesportello ci occupiamo di mutui prima casa. A causa dell'emergenza Covid-19 il decreto Cura Italia ha rifinanziato con 400 milioni di euro il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che sostiene i titolari di un mutuo prima casa, i quali in caso di difficoltà economiche possono richiedere la sospensione temporanea del mutuo stesso e ottenere che il pagamento della quota capitale del mutuo venga sospeso per un periodo massimo di 18 mesi, pagando uniquamente il 50% degli interessi e lasciando il restante 50% a carico del fondo. La successiva trasformazione in legge del decreto liquidità ha ampliato la platea dei beneficiari estendendo la possibilità di inoltrare domanda anche a mutui fino a 400 mila euro, a lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno il 20% per almeno 30 giorni, i beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali. E poi lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o delle restrizioni della propria attività causate dalle restrittive disposizioni adottate per l'emergenza coronavirus. Come si presenta la domanda? L'ISE non è richiesto, quindi non ci sono limiti reddituali per accedere al fondo. La banca che ha concesso il mutuo deve essere iscritta al fondo. La prima casa per cui si è contratto il mutuo non deve essere una abitazione di lusso. Il modello per presentare la domanda è scaricabile dal sito del Ministero dell'Economia e Finanza. La banca dovrà offrire assistenza attraverso modalità telematiche. Il modulo andrebbe compilato, firmato e rispedito via e-mail. Qualora non si disponesse di una stampante, il modulo potrà essere inviato via e-mail allegando un documento di identità. Alla domanda vanno allegati copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito e la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445 del 2000 che attesti la sospensione del lavoro o riduzione dell'orario indicando i giorni consecutivi di sospensione e la percentuale di riduzione. A carico del mutuatario resta per il periodo di sospensione il pagamento del 50% degli interessi spread incluso. La quota capitale viene congelata per tutto il periodo della sospensione spostando per pari periodo il termine del piano di ammortamento. La durata della sospensione del mutuo può variare 6 mesi per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro tra i 30 e i 150 giorni 12 mesi se compresa tra i 151 giorni e i 302 giorni 18 mesi se supera i 303 giorni Quali sono i tempi per l'evasione della domanda di sospensione? La banca invia telematicamente la domanda alla CONSAP entro 10 giorni dal ricevimento solo se la documentazione è completa CONSAP ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l'autorizzazione La banca ha 5 giorni lavorativi per far conoscere al mutuatario l'esito della richiesta Bene, per oggi ci fermiamo qui Vi ricordo però che ci potete scrivere all'indirizzo mail info-adoc-marche.it Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento con le Marche Informate